Buongiorno, possiamo farvi qualche domanda? Ah, sì, sì. Facciamo un rapido check? Che cosa c'è sul wall di sua figlia? Dei poster. Dei poster. Dei poster. Se dico share, a cosa pensa? A dei programmi televisivi. A condividere foto. Video, status. Quanti amici ha? Una decina. 745. Mi darebbe il suo indirizzo? Anche no. Giulio.bianchi. Sara.cambi.atmarymail.com Se una pagina le piace... La leggo? Clicco like. Clicco like? Suo figlio è un geek? Boh, spero di no. Chiedi lei ai miei amici. Se dico home, a cosa pensa? A casa? Alla mia home page. E vi hanno accesso tutti? Sono sicura di no. Sono sicura di no. Ora lo sa che è meglio di no. Insieme. Più connessi. Più sicuri.